L'inglese Maria è di Madrid Madrid si trova in Spagna Lei parla Spagnolo Peter e Marta sono di Berlino Berlino si trova in Germania Parlate tedesco voi due? Londra è una capitale Anche Madrid e Berlino sono capitali Le capitali sono grandi e rumorose La Francia si trova in Europa L'Egitto si trova in Africa Il Giappone si trova in Asia Il Canada si trova nell'America del Nord Il Panama si trova nell'America Centrale Il Brasile si trova nell'America del Sud Paesi e lingue John è di Londra Londra si trova in Inghilterra Lui parla inglese Maria è di Madrid Madrid si trova in Spagna Lei parla Spagnolo Peter e Marta sono di Berlino Berlino si trova in Germania Parlate tedesco voi due? Londra è una capitale Madrid e Berlino sono capitali Le capitali sono grandi e rumorose La Francia si trova in Europa L'Egitto si trova in Africa Il Giappone si trova in Asia Il Canada si trova nell'America del Nord Il Panama si trova nell'America Centrale Il Brasile si trova nell'America del Sud